Quando ero piccola mi chiedevo se dal cielo sarebbero caduti molti meteoriti oppure se il mondo intero sarebbe affondato nell'acqua fino a essere distrutto. Quando avevo questi sogni ero sollevata dal fatto che potevo finalmente morire. Volevo essere qualcosa di speciale. Volevo vivere una vita normale. Sono passati vent'anni da allora. Questo è il mio racconto di amore e maledizione. Grazie per la visione.